Bisogna intensificare l'attenzione sul Covid mantenendo le mascherine, le distanze e l'igienizzazione perché questo significa tutelare la sicurezza e la salute nostra. Poi vorrei complimentarmi con la brillante operazione dell'Arma dei Carabinieri, il Maresciallo Giabani con tutti i suoi giovani carabinieri per aver arrestato un paio di spacciatori e averne fermate una decina nella città di Vallefoglia, questa grande operazione che fa da Pandanne il grande lavoro che i carabinieri fanno a Vallefoglia insieme anche alla Polizia Locale che grazie all'accordo con i sindacati in H24 almeno nei weekend, quindi una grande collaborazione, serietà, rigore, sicurezza, sicurezza dal punto di vista ambientale, ecologico e della tutela della salute, sicurezza dal punto di vista dell'ordine pubblico e del rispetto delle norme e delle regole. Grande operazione antidroga, va al plauso della città di Vallefoglia, il mio personale, della Giunta e la collaborazione che abbiamo sempre con Prefettura e Questura, con l'Arma dei Carabinieri, con tutte le Polizie dello Stato sono importanti perché danno più serenità, più sicurezza, più trasparenza, più limpidezza nell'azione di governo di questa città che è una città forte, che cresce, che guarda il futuro, che tutela la salute, che tutela l'ambiente e che tutela la sicurezza della nostra comunità, dei nostri cittadini e che punta sempre alla piena occupazione perché questo è l'assillo principale perché quando uno ha la salute, la sicurezza e il lavoro e diciamo che sta, non dico da Dio, però sta bene e guarda con speranza e fiducia al futuro.